Il proiettivo era dal grande, è alto, era sulle gambe Eugenio, Eugio, Eugio Eugenio, Eugio, Eugio Si fa qualche si può No, ha parlato prima mai di eugio Vai 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 Bravo Eugio bravo Yus tienilo, tienilo, tienilo dai dai va bene Yus non usa la gamba in braccia adesso non solo puoi essere dai, dai dai agganciali la gamba se riesci per uscire mira sulla spalla sulla spalla e poi vieni dai 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 Grazie a tutti.